Una parte, prima Alessandra vi ha parlato di Erasmus, Erasmus è chiaramente il programma di eccellenza dell'Unione Europea, quella che ha registrato il maggiore successo, che ha fatto viaggiare milioni e milioni di ragazzi ma anche di adulti, ma da dove nasce la possibilità dell'Unione Europea di finanziare programmi come Erasmus? Da dove nasce l'Unione Europea? Facciamo un po' un escursus della storia, di come lavora e di come opera l'Unione Europea. Voi fate diritto dell'Unione Europea? Studiate? E quindi allora lo saprete? Proviamo un po' ad interagire insieme se funziona, vediamo un attimo perché non me lo mando avanti. Marisa, vedi se tu sei più tecnologica? Ok, provate a scannerizzare questo QR code. C'è la fa? Av kurtata il nostro Schifo. Non ci terass ti vai 구독ся. Me O un po'